Ragazzi, prima di iniziarvi volevo dire un paio di cose Allora, la prima è che questo qua non è neanche un video Perché io non avevo neanche intenzione di caricarlo come video Però è successa una cosa abbastanza tattica Perché ho detto, andiamo ad aprire dei pacchetti dalla web app E ho detto, ma si Trank, registriamoci Registriamoci quasi per scaramanzia E cosa è successo? Ho trovato un altro bel giocatore Un altro giocatore abbastanza tattico E quindi poi vi ho chiesto, come potete ben vedere sulla pagina Facebook Se appunto avreste voluto che io caricassi questo video Vi avete detto tutti di sì, quindi ecco perché ve lo sto portando E secondariamente ho parlato anche così a bassa voce Perché non mi sento ancora molto in forma E poi l'ultima cosa, non è che adesso continuerò a fare solo pacco opening e basta Li sto un attimo utilizzando perché sono una cosa che non è che mi chiedano tanti sforzi, tanti tempo Appunto che in questo periodo in cui non mi sento molto in forma Sappiate già che magari il prossimo video può essere già uno squad builder Come anche un wager match oppure un pink pale Quindi ragazzi, detto questo, budetevi il video Abbiamoli un pacchetto Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere Un altro team of the season De santis De santis De santis De santis De santis Oh mio dio Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere Un altro team of the season De santis E andiamo a quattro E andiamo E andiamo E andiamo E andiamo così Continuiamo Via Via Un altro team of the season